Il Vangelo della domenica 20 marzo 2022 Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti da 1 a 9 In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici Prendendo la parola Gesù disse loro Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo Diceva anche questa parabola Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna E venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò Allora disse al vignaiolo Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo Taglialo dunque Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose Padrone, lascialo ancora quest'anno Finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime Vedremo se porterà frutti per l'avvenire Se no, lo taglierai Sono due quadri che ci attirano in questa domenica Il primo è la discussione di Gesù su dei fatti di cronaca Una discussione molto attuale C'erano stati dei galilei, degli uomini che erano stati uccisi dalla polizia romana Durante una delle tante rivolte che erano capitate durante una festa E 18 persone che erano rimaste uccise sotto il crollo di una torre Secondo lo schema del tempo, ma che non è mai passato di moda Quando ti capita una cosa così vuol dire che hai fatto un peccato e che devi scontare Il dolore come punizione Lo schema delitto-castigo Hai fatto qualcosa di male, per questo ti arriva qualcosa di male Gesù distrugge questo schema Non erano più peccatori degli altri Il dolore e la morte non sono una punizione Sono, come qualcuno ha detto, un mistero Però, dice Gesù, vanno colti questi fatti Questi che ancora costellano purtroppo anche la nostra cronaca Vanno colti come inviti alla conversione Non abbiamo un tempo infinito nella vita Abbiamo oggi per rispondere a Dio Per convertirci, per diventare migliori Per vivere l'amore Abbiamo oggi Non sappiamo se ci sarà domani Non sappiamo come sarà Sappiamo però, e questa è la seconda parte del Vangelo Che il vignaiolo, che è Gesù Diciamo così, può essere inteso come Gesù Sta dicendo al padrone, al nostro giudice, al nostro padre Abbi pazienza Lascia ancora questo fico improduttivo Che è ciascuno di noi Lascialo ancora quest'anno Abbiamo questa quaresima Abbiamo questo tempo Per portare frutto Cosa vuol dire portare frutto? Vuol dire amare le opere dell'amore Ecco, allora chiediamo al Signore Che ha ancora pazienza con noi Che ci dà ancora del tempo per convertirci Per cambiare, per crescere nell'amore Chiediamo al Signore di non essere un fico infecondo Ma di portare tanti frutti buoni Che si possa dire anche di noi Come dirà San Pietro di Gesù Descrivendo il suo passaggio sulla terra Gesù è passato in mezzo a noi Facendo del bene Speriamo che questo si possa dire Di ciascuno di noi Buon cammino di Quaresima Buon cammino di Quaresima